Matteo Renzi con le nomine ha inserito tutto il suo esercito di lobbisti. Innanzitutto bisogna dire che le quote rosa sono soltanto un mero specchietto per le allodole. Infatti le 11 donne inserite nel CDA, nessuna di queste ha un ruolo operativo. Ma andiamo ai nomi. I nomi disegnano quello che è stato il gioco velato di poltrone. Vi invito a cercarli tutti in rete. Io ho la lista lunghissima, ve ne dirò soltanto alcuni. Eni abbiamo la Marcegaglia. La Marcegaglia è un'azienda, un'azienda personale, Marcegaglia S.P.A., che ha rapporti con Eni, per cui troviamo subito il primo conflitto di interessi. Finmeccanica troviamo Mauro Moretti. Se era lamentato per il suo basso stipendio di oltre 800 mila euro in ferrovie, beh, ne hanno accontentato subito, ha più che raddoppiato adesso in Finmeccanica. Enel, Matteo Renzi ha inserito direttamente il suo avvocato Alberto Bianchi. Andiamo alle poste. Troviamo Latodini. Un chiaro favore a Silvio Berlusconi. Latodini, pensate che all'età di 28 anni, fu già candidata ed eletta europarlamentare nelle liste di Forza Italia. Questa è la politica rottamatrice di Matteo Renzi, che mette suoi amici ed amichetti in tutte le poltrone di aziende statali.